La prestigiosa Sala Trofei del Trentino Volley Point ha tenuto a battesimo nel pomeriggio di oggi il ritorno a Trento di Jan Stocker. A tre anni di distanza dalla conclusione della precedente esperienza in maglia giallo-blu, l'opposto cieco ha quindi aperto la sua seconda parte di carriera sportiva con il club di Vietrainer, proprio di fronte alle tante coppe alzate al cielo fra il 2010 e il 2013. Ben nove dei sedici trofei vinti dalla società del presidente Mosna portano infatti in calce la sua firma. Ecco le dichiarazioni di Stocker al termine dell'incontro. Molto emozionato, veramente. Sono passato un mese e mezzo qui a salutare i ragazzi in ufficio di Trentino Volley. Non sapevo proprio che dopo un mese e mezzo ci ritroviamo di nuovo per la conferenza stampa. Assolutamente sorpreso. Cosa ti ha convinto a tornare a Trento? Prima cosa questo bel paese. Poi ho visto anche buoni risultati l'anno scorso di finale di Champions di questa squadra, quindi c'è molto onore di essere uno per questa squadra. Poi altro che sono diventato il più vecchio giocatore e che un po' sono nervoso. In questi anni, in questi anni lontano da Trento, come sei cambiato? Secondo me l'ultimo anno in Corea sono più resistente, direi, perché lì c'è tanta pressione su straniero e qui forse si gioca più la squadra, che forse è meglio per me. Ti è mancato qualcosa di Trento in questi anni lontano? Assolutamente. Non volevo proprio finire a Trento, poi ho avuto l'opportunità di andare in Russia, che alla fine non è andata neanche così bene come aspettavo. In Corea è andata bene, però era molto difficile e alla fine sono qui. C'era prima scelta quando sapevo che c'è questa possibilità di ritornarmi, però non volevo trovare altre squadre. Quando comincerei a lavorare con la squadra? È già cominciato, perché come ho detto, il giocatore più vecchio, voglio essere più pronto prima della preparazione. Grazie a tutti.